Nella sua prima fase, il piano integrato per l'occupazione da 30 milioni di euro della regione toscana ha visto l'avviamento al lavoro di 4.000 persone, il 60% delle 6.696 che hanno presentato domanda di adesione. A fare il bilancio in vista dell'attivazione della seconda fase del piano è stata Cristina Greco, assessore regionale al lavoro. L'85% delle richieste è arrivato da disoccupati di lunga durata. Le misure attuate sono state l'indenità di partecipazione di 500 euro mensili, l'assistenza alla ricollocazione dei disoccupati e gli incentivi alle assunzioni per le imprese. Da una parte siamo stati l'unica regione a poter rimettere sul territorio circa 30 milioni derivanti da una gestione virtuosa degli ammortizzatori sociali, quindi questi erano residui di ammortizzatori sociali che noi potevamo impiegare solo in politiche attive e dall'altra mettendo su una sorta di sperimentazione del reddito di cittadinanza, possiamo dire un nostro modello partito prima perché siamo partiti nel marzo 2018, possiamo dire che il nostro modello ha veramente funzionato. La seconda fase del piano integrato per l'occupazione ha una dotazione di 7 milioni di euro e non prevede l'indenità di partecipazione essendo entrato già a regime il reddito di cittadinanza, novità della fase 2 e il percorso intensivo di ricollocazione rivolto ai lavoratori in seguito a situazioni di crisi di grandi imprese.